Il concerto numero uno in mi bemolle maggiore di Franz Liszt è proprio quello che si suol definire un vero banco di prova per ogni pianista. È un concerto di una difficoltà straordinaria sia proprio dal punto di vista pianistico che oserei dire emotivo proprio per il modo in cui è scritto il pianoforte, il pianista proprio a freddo deve esordire con dei passaggi difficilissimi, con delle cadenze molto virtuosistiche. È un banco di prova ed è veramente un concerto molto avvincente per il pubblico, amatissimo dal pubblico, un po' meno dalla critica come spesso avviene nel corso della storia perché appunto il pianoforte si rapporta con l'orchestra in maniera a volte burrascosa quasi che l'una cercasse di si sopraffare l'altro e viceversa, altre volte invece c'è una perfetta fusione sia di intenti che timbrica oserei dire nell'organico. E non è forse un caso che fu intitolato originariamente concerto sinfonico proprio perché Liszt voleva evidenziare il ruolo dell'orchestra che non era, non voleva essere un mero accompagnamento ma aveva un ruolo assolutamente preminente. Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!